Il grande pubblico a livello internazionale lo conosce per le numerose interpretazioni in film proiettati al cinema o trasmessi in televisione. Parliamo di Vincent Riotta che ha lavorato con registi del calibro di Brian De Palma e Ron Howard con Ridley Scott soltanto per citarne alcuni. L'attore inglese ha origini italiane, i genitori sono nati in provincia di Caltanissetta in Sicilia. Il 4 luglio tornerà a Pescara per ricevere il Pegaso d'oro alla carriera per il cinema durante la cerimonia conclusiva della 48esima edizione dei premi internazionali Ennio Flaiano. In collegamento con noi da Londra, la città nella quale vive, il premio Flaiano va ad aggiungersi ad una serie di riconoscimenti internazionali che lei ha ricevuto nel corso della sua carriera costellata di successi. A chi lo dedica? Mamma e papà non ci sono più. Mamma è andata a febbraio durante questa cosa di Covid, quindi la prima cosa che vorrei dire ovviamente le dedico tutto a loro due. Il 4 luglio tornerà a Pescara dove è già stato alcuni mesi fa accompagnato dal suo manager Antonio Moccia dell'agenzia The Mac Live. Cosa le piace di Pescara e dell'Abruzzo? Carlo Masci è stato un signore, il sindaco è stato veramente generosissimo, è una bellissima persona. Grazie ad Antonio Moccia che l'adoro, è diventato un amico. Si mangia da Dio a Pescara che mi piace mangiare e devo dire che si mangia veramente bene. Poi la gente, come dico, prima di tutto un'accoglienza fantastica da tutte le persone che mi hanno accolto lì, non me l'aspettavo. L'Abruzzo è un posto incredibile. Tra i numerosi ruoli che lei ha interpretato c'è anche quello di Tommaso Buscetta nella serie Il Capo dei Capi. C'è un personaggio che non ha ancora interpretato, del quale vorrebbe vestire i panni? Sì, c'è uno spettacolo da Arthur Miller che si chiama A View from the Bridge, uno sguardo dal ponte. Il ruolo di Eddie Carbone che è un ruolo classico che tutti i grandi, sia italiani, sia americani, sia inglesi hanno fatto. Io ho fatto sempre il ruolo, avevo fatto tre volte il ruolo di Rodolfo che è il ruolo giovenile, quando ero giovane ovviamente. Voglio fare Eddie Carbone. Si è formato artisticamente alla Royal Academy di Londra e tiene corsi in tutto il mondo. Cosa consiglia a chi vuole intraprendere la carriera di attore? So che lei tiene dei workshop anche in Italia. Ne sono previsti anche in Abruzzo? Sì, spero di proprio, non posso dire esattamente tutto ancora, però nei prossimi settimane spero di poter annunciare che farò un corso di presenza, perché faccio online e faccio di presenza e sarà in Abruzzo. In attesa di incontrarla qui in Abruzzo vuole inviare un saluto ai telespettatori di Rete 8? Sì, un grande saluto a tutti che seguono Rete 8 e sono molto orgoglioso di fare questa intervista. Delle volte veramente non ci credo che mi danno questa opportunità. Grazie, grazie di cuore per non parlare di venire lì per il premio Flaiano.